gentili telespettatori buona giornata sapete che durante la riunione a villa grande sull'appia antica la nuova casa di berlusconi la riunione con salvini e meloni salvini ha preso da parte berlusconi dicendogli mi fai fare il capo del centrodestra al governo e berlusconi che ha bisogno di salvini per fare per essere eletto al quirinale va bene se vuoi fare il capo del centrodestra al governo va bene subito salvini ha preso la palla al balzo dicendo beh allora dai dobbiamo riunirci coi ministri io te i ministri così tu gli dici ai tuoi ministri che che praticamente è salvini che comanda e salvini che mette d'accordo tutti insomma salvini che si è visto scalzare la leadership del centrodestra e anche la leadership italiana adesso dopo anni che è capo del centrodestra non ha mai esercitato questo essere capo del centrodestra adesso all'improvviso vuole fare il capo adesso che non lo è più vuole fare il capo e così viene fissata salvini chiama di nuovo berlusconi allora quando ci vediamo mi hai detto che mi fai fare il capo del centrodestra di governo e così fissano con berlusconi un incontro coi sei ministri tre ministri della lega e tre ministri di forza italia immaginatevi i tre ministri di forza italia sono quelli che fanno più casino in quest'ultimo momento c'è gelmini e garfagna che secondo la mia opinione stanno cercando di di diventare il berlusconi del futuro al femminile vogliono vogliono prendere il partito no dice cavolo c'è giorgia meloni con fratelli italia anche noi vogliamo un partito solo che giorgia meloni l'ha fondato il partito mentre voi sognate di prendere il posto di silvio berlusconi ma senza silvio berlusconi né gelmini né garfagna nel senso esisterebbero esistono perché c'è berlusconi ma ovviamente gelmini garfagna e brunetta che sono anche tra i più critici verso salvini devono andare a una riunione dove berlusconi gli dice io comando e adesso ogni cosa dovete mettervi d'accordo con salvini sono i ministri del della lega che ovviamente sono d'accordo è ovviamente però i tre ministri del di forza italia vengono convocati perché berlusconi gli deve dire adesso fate riferimento a salvini pensate un po' fate riservi che voi che dite che saranno felici i ministri preferiscono in pubblico il silenzio per rispetto spiegano visto che lealtà e stima per il cavaliere non vengono meno ma insomma diciamo che stanno cercando di prendere il posto del berlusca ma ovviamente quello è sempre il capo proprio ieri ha detto berlusconi decido io in forza italia e i suoi dipendenti perché guardate che i politici di un partito sono alla fine i dipendenti perché se il capo politico vuole alle prossime elezioni non li candida più e possono andare a chiedere il reddito di cittadinanza perché che lavoro va a fare una garfagna una gelmini un brunetta che lavoro volete che vadano a fare che vanno a fare dopo dopo aver perso il lavoro in politica nulla pertanto se il capo alza la voce comando io tutti zitti no noi non parliamo in pubblico per rispetto a lealtà e stima al cavaliere senza tempo però l'accusa di essersi mossi solo per incomprensioni personali gli dà fastidio incomprensioni personali ovvero arrivismo personale dicono stiamo facendo politiche i problemi non vanno affrontati effettivamente affettivamente dicevo effettivamente che vuol dire affettivamente e se è assolutamente positivo che berlusconi abbia ribadito l'appoggio totale a draghi il problema però resta non possiamo farci dettare la linea da salvini né al vertice convocato per dirgli che devono prendere ordini da salvini né durante il consiglio dei ministri né come ministri quindi i tre gelmini garfagna brunetta dicono noi non ci facciamo comandare da salvini e non ci facciamo comandare neanche nei ministeri da nessuno voi sapete che il ministro come capo a il presidente del consiglio il ministro come capo non ha il capo politico certo è vero come vi dicevo prima che se se tu gli fai girare le scatole non esegui gli ordini del capo politico diceva beh tu fai il ministro fai il ministro sì 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 tu fai il ministro poi alla prossima legislatura vai a cercare lavoro in un supermercato e portati il curriculum comincia a scriverlo quindi il ministro sulla carta non deve dare retta a nessuno neanche al presidente del consiglio eventualmente il ministro è autonomo il presidente del consiglio vigila che il ministro non faccia qualcosa di illegale ma il ministro è autonomo non prende ordini da nessuno ma loro appunto dicono noi non prendiamo ordini da salvini né nella riunione nel vertice né nel consiglio dei ministri e neanche nei nostri ministeri quindi gelmini garfagna brunetta non prenderanno ordini dicono non ci metteremo a fare le barricate su quota 100 o a combattere battaglie sovraniste dice il centrodestra non si può ridurre a una competizione tra salvini e meloni o perdiamo tutti beh hanno capito i tre ministri di forza italia hanno capito che questa cosa all'improvviso di salvini che vuole fare il capo del centrodestra in maggioranza è una competizione con la meloni perché la meloni è ufficialmente il capo del centrodestra e primo partito italiano e salvini vuole affermare che è lui il capo e chiede a berlusconi fammi fare il capo del centrodestra in governo i tre ministri gelmini garfagna e brunetta hanno capito tutto viene a giocare a fare il capo con noi perché sta competendo con giorgia meloni hanno assolutamente ragione hanno assolutamente ragione e berlusconi permette tutto questo perché vuole andare al quirinale e loro lo hanno capito e nelle cose private che dicono tra di loro sui giornali è uscito che berlusconi lo fa perché vuole andare al quirinale non è che gliene frega niente di salvini non ha neanche stima di salvini berlusconi lo fa perché vuole essere mandato al quirinale e ha bisogno di salvini meloni renzi e di tanti altri perché adesso ci sono tutte le che bravo renzi renzi che dice che bravo berlusconi perché probabilmente hanno trovato un accordo probabilmente chi lo sa andremo avanti nel prossimo video arrivederci a tutti